Compie 106 anni oggi, 1 marzo 2024, la signora Luisa Altieri per essere nata nel 1918 alla fine del primo conflitto mondiale, ma poi la seconda guerra mondiale l'ha vissuta tutta e con grande sofferenza. Tanto che qui, esattamente in questo angolo che state vedendo nelle immagini, ha rischiato di morire quando un mezzo pesante degli americani la investì improvvisamente, tanto da perdere poi una gamba. Ma qui Luisa, come la chiamano tutti, è vissuta da sempre, siamo a piedi Montematese nella borgata di Sebiciano, ha una lucidità impressionante nei dettagli dei suoi racconti fiume. Noi siamo andati a trovarla nella sua casa, sulle splendide colline di Sebiciano e sentite che cosa ci ha raccontato. Signora Luisa, lei quando è nata, si ricorda? Il primo marzo del 1918. Quanti figli ha? Due. Come si chiamano? Un Alfonso e un'altra Rosa Maria, che sto con loro. Signora Luisina, so che lei ogni tanto fa dei viaggi a nord, a Genova, è vero? Sì. Chi c'è a Genova? A Genova ci sono i figli di mia figlia, due. Gli vuole mandare un saluto? Sì, a tutti i miei nipoti, lontani e vicini, sì, grazie. Signora Luisina, c'è stato un momento della sua vita che ha cambiato notevolmente tutta la sua esistenza. Ecco, ci racconti un attimo quell'episodio del 13 giugno del 1944, brevemente. Cosa è successo? Nella piazza di Sebiciano. No, facevo. Io sono riuscita per andare a a sentirmi la messa a San Antonio. E poi? Che è successo con il camion americano? Poi una ragazza, no, poi passò una macchina, che io non l'ho vista perché stavo di spalle, loro venivano in mezzo alla strada, un ragazzo che aveva 15-16 anni, preso il numero della targa degli americani, erano caramati. Venendo apposta a investire, mi preso le spalle. Ecco, lei poi è stata trasportata in ospedale, è stata male, sono stato con la cancrena. È 80 anni senza la gamba sinistra, ma nessuno se ne accorge. Che cosa ricorda della guerra? Oh, della guerra. Dio che paura, se la pensa mi fa paura. Lei, per avere tutti questi anni, che cosa ha mangiato? Qualcosa in particolare? No, no, tutto ho mangiato. Grazie al Signore che non ho avuto nessun problema, sono ancora bene, mia figlia e mio genio mi trattano tanto bene. Oggi che fai esattamente? Qual è la giornata tipo? La mattina si alza? La mattina mi alzo, mia figlia mi fa colazione e dopo mi dico rosario fino a luna. Da non in poi dove metteva a lavorare o con l'uncinetto, oppure ho fatto le vestite di babbole, ho fatto tante fresine. Signora Luisino, un episodio il più bello della sua vita qual è stato? Il più bello della mia vita è stato di voler bene i miei figli e mio marito. Come si chiamava suo marito? Gabriele Di Baia. E quant'è che lei si è fidanzato con Gabriele? Un anno, un anno e mezzo. Di fidanzamento? Sì. E poi vi siete sposati? A ottobre in Bussolini mi si regalo e allora mi sposai a ottobre. Vi ricordate il primo bacio? Eh, il primo bacio aveva, aspettate, aveva... 19 anni? 20 anni, eh sì. Dove ve l'ha dato? Di nascosta dai genitori? No, proprio sul terreno che mi portai la signora Anna in campagna alla terra. In campagna? Sì, però stavano tutti poi all'improvviso, non è che stava sola, eh. Lei non voleva? No, poi mi diceva sempre la mano in bacio per paura, sembrava che mi ha dato un bacio. E da allora poi disse, perché papà mi diceva sempre mi fatti toccare da nessuno. Vai! Da Piedimonte, Matese, è tutto. Lorenzo Applauso ed Emilio Bianchi per casertasera.it Guarda ora io? Grazie.